30 marzo 1915. Nasce all'Enola, in provincia di Latina, Pietro Ingrao. Dal 1939 partecipa all'attività antifascista fra gli studenti dell'Università di Roma e nel 1940 entra nel Partito Comunista. Sarà uno dei principali esponenti dell'ala sinistra del partito. Dal 1947 al 1957 Ingrao è direttore dell'Unità e sarà anche ininterrottamente deputato dal 1948 al 1994.